La nostra sicurezza non va riposta nelle costruzioni umane. Con questo passaggio all'Angelus, Papa Francesco ha ricordato che spesso si vive di presunte certezze che si rivelano effimere e di problemi considerati insuperabili che poi si risolvono. Gesù ha affermato, sa che c'è sempre chi specula sul bisogno umano di sicurezza, per questo ha messo in guardia dei falsi Messia e dalla tentazione di farsi disorientare da guerre, rivoluzioni e calamità che invece fanno parte della realtà di questo mondo. La storia della Chiesa, ha continuato il Papa, è ricca di esempi di persone che hanno sostenuto tribolazioni e sofferenze terribili con serenità, perché avevano la consapevolezza di essere saldamente nelle mani di Dio, un padre che non abbandona mai i suoi figli. Così, quello che conta, ha aggiunto, è rimanere saldi nel Signore, il camminare nella speranza e lavorare per costruire un mondo migliore, che è poi la prospettiva nella quale collocare l'impegno dell'anno santo che sta per chiudersi. Sotto lo sguardo misericordioso del Signore si dipana la storia del suo fluire incerto e del suo intreccio di bene e di male, ma tutto quello che succede è conservato in Lui. La nostra vita non si può perdere perché è nelle sue mani. Dopo l'Angelus, il Papa ha ricordato la giornata di ringraziamento per i frutti della terra e del lavoro umano che si celebra in Italia, sottolineando che la terra va coltivata in modo sostenibile. Poi ha aggiunto che la Chiesa non dimentica quanti in varie parti del mondo sono privi dei beni essenziali come il cibo e l'acqua.